ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario milk powder informazioni commerciali titolare fm italia gruppe srl concessionario fm italia gruppe srl confezioni milk powder secchiello da 10 kg indicazioni mangime completo in polvere utile nei puli adri orfani o se si verifica una scarsa produzione di latte materno posologia di sciogliere 100 g di prodotto in polvere in 1,5 lt di acqua tiepida non oltre i 37 a gradi e mescolare bene fino a raggiungere una soluzione omogenea che va somministrata ai pulivri orfani secondo la tabella che si trova in etichetta il prodotto può essere somministrato anche tal quale a pulivri svezzati e cavalli adulti insieme a concentrati e foraggi fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato grazie a tutti grazie a tutti